La mia passione per la natura nasce fin da piccola, quando con la mia famiglia trascorrevo l'estate in mezzo al bosco. Qui ho sempre dialogato con gli alberi, con tutto ciò che sentivo vivo e simile a me. Sono Chiara Bellando, la guida naturalistica della regione Piemonte e un counselor psicosintetico. Oggi la mia attività è fatta di passeggiate con adulti e bambini. Passeggiate di ricerca, ricerca verso se stessi e verso la natura. Rediligo la val di Susa che ha in sé il simbolo del Piemonte. Conoscere nuovi elementi, fare esperienze di sensi e imparare a stare e vivere in natura è il mio essere guida naturalistica. Insomma potrei sintetizzare la mia attività con quest'idea, imparare a mettere i piedi. Così da conoscere per mettere il proprio labbino. Ciao!